Aderisco alla circoscrizione per una forma di protesta per eliminare il traffico pesante dalla statale. È un simbolo che spera che faccia effetto presso gli organi competenti, il comune insomma. Cambia il look, ma non gli obiettivi. Continua la protesta civile pacifica dei residenti lungo la statale adriatica Metaurilia, che però sostituiscono i teli rossi con bandiere dello stesso colore. Una viabilità più sicura resta questa la priorità per i residenti e per il comitato Noi di Fano Sud, a cui si aggiunge la richiesta della costruzione di una pista ciclabile nel tratto Metaurilia-Fano, che permetta a residenti e turisti di spostarsi in sicurezza e senza prendere la macchina. Siamo l'unico tratto che non ha ancora il progetto, ha commentato la portavoce del comitato Noi di Fano Sud, Sonia Campanelli. Notizia fresca di due giorni, abbiamo saputo che il comune finalmente ha affidato l'incarico di fare il progetto e questo veramente lo riteniamo un risultato che forse è grazie anche alle nostre richieste pressanti. Una volta che questa strada diventi comunale, allora è possibile cambiare completamente la viabilità e anche l'attuale situazione perché ci sono tutti i fossi da intubare perché come vedete qui non si riesce nemmeno a camminare a piedi, è pericolosissimo tantomeno andare in bicicletta. Quindi una volta che abbiamo una pista ciclabile per chi va in bicicletta, un camminamento pedonale diciamo è sicuro, un abbassamento della velocità, alcune rotatorie, cambia completamente la vivibilità della strada e degli abitanti. La regione, perlomeno ci hanno detto che l'assessore Baldelli, che nella sua campagna elettorale aveva proprio inserito nel suo programma questa nuova strada che dovrebbe collegare l'interquartiere di Fano che è arrivata fino alla tombaccia, fino giù al casello di Marotta, si è avuto proprio l'incarico dalla regione di portare avanti questo progetto. Anche lì abbiamo speranze. Il drappo rosso simboleggia anche un altro problema che affligge Metaurilia. L'avanzamento del mare, che spiega Campanelli, ha raggiunto la ferrovia, apportando danni alle varie concessioni balneari. Addirittura in alcuni punti l'acqua, passando per i sottopassi, è arrivata ad allagare anche gli orti dei residenti. La questione tocca in prima persona i bagnini, che attendono la gara d'appalto riguardante i lavori per spostare più a largo le scogliere dalla foce del fiume fino alla chiesa di Metaurilia. È un primo stralcio già finanziato con oltre 4 milioni di euro. Le scogliere dovranno essere iniziate nel 2019, come avevano sempre detto sia le ferrovie che il comune di Fano. Siamo nel 2021, ancora non si sa né la data di quando iniziano né quando finiranno. Poi questo è solo il primo pezzo, l'altro pezzo non so quando andrà a finire, nel 2030, nel 2040. Cioè qui la situazione è grave, l'acqua ogni volta che fa una piccola mareggiata arriva di sopra. Le scogliere non tengono più, sono tutte cadute, molti sassi sono andati giù, non tiene più. Quindi non so che turismo Fano vuole fare. Siamo la zona dove c'è più turisti di Fano. Non siamo presi in considerazione per niente. Un grossissimo sbancamento dell'arenile subito proprio a ridosso della ferrovia, che quindi è un pericolo stesso perché è a 4-5 metri dai binari.